Il nuovo arrivato deve essere innamorato di te Ok, no! Ma io leggo le persone Ok, tu chi sei? Grazie per la domanda nuovo Non sono nuovo Mi chiamo Fabio Repravacca E per gli ultimi sei mesi E a lui hanno dato l'orologio? Sì, eh... Essere Spider-Man è facilissimo Mi sveglio, salto la ginnastica perché sono già abbastanza muscoloso di natura Faccio quasi niente ai miei fabolosi capelli Non usi nessun prodotto? Solo olio di cocco, preghiera e genetica Poi donano fino a scuola, non serve ma lo faccio allo stesso Compatto cattivo, do da mangiare cani randaggi Una tazza di ciai con la mia zieta Maia Li piace il te ciai? Che cosa hai detto? Te ciai? Ciai vuol dire te bro! Quindi hai detto te te! Chiederesti un caffè caffè con latte latte? No! No Poi passo il tempo con la mia ragazza, Gaia Tri È un'adolescente di gran classe Piccola Stasera pensavo che... Salve Ispettore Singh, questa è sua figlia Non la conosco per niente E ciliegina sulla torta Abito nella città migliore per Spider-Man Moon Button Tour veloce Qui c'è traffico Qui c'è traffico Qui c'è traffico E qui c'è traffico E qui è dove gli inglesi ci hanno rubato Qui c'è traffico